Ciao a tutti, sono Peppe D'Agenzio dell'Orchestra di Piazza Vittorio e degli Avion Travel. Mando questo messaggio in sostegno agli amici del Teatro del Loto. Ci troviamo a Ostia, al Teatro Lido, un piccolo teatro di provincia, che per certi vesti ci ricorda il Teatro del Loto. Mi viene spontaneo sollecitare l'attenzione per il lavoro fatto dal Teatro del Loto, dove del resto anche noi, sia con l'Orchestra di Piazza Vittorio, con gli Avion Travel, con tutti i gruppi, abbiamo suonato molte volte. Che dire? Io a Roma sento spesso queste battute, il Molise non esiste. Io so che invece esiste, e so che esiste anche grazie a realtà come il Teatro del Loto, realtà che, appunto, come tutti i teatri, sono quelle che più di tutto mettono in circolazione idee, persone, fanno conoscere, fanno viaggiare, fanno incontrare. Ed è veramente un peccato che una realtà del genere debba aiutare. Quindi sosteniamo noi e invitiamo tutti a sostenere le richieste dei ragazzi che lavorano al Teatro del Loto, in particolare Stefano Sabelli e tutti gli amici di Campobasso.